Sono sul Monte Tuscolo, guardate che meraviglia, che bello che si vede da qua. Vedete il mare, questa è tutta la zona intorno al Tuscolo, vicino Roma, poi andiamo più di qui, e qui, vedete, si comincia a vedere Roma, questa è tutta Roma, vista appunto dal Tuscolo, questa è Roma, poi altre zone e poi in fondo il mare, si vede il mare, se lo vedremo un po' meglio, ecco. Questa zona azzurra è il mare. Che meraviglia, eh? Quello è il mare. Qui è, qui ci sono i paesi più vicini qui a Monteporzio, Catone, bellissimo, eh? Stupendo. Ecco, e rivedo questa Roma, eccola qua, Roma dall'alto. Guardate. 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 Questa dovrebbe essere San Pietro. Questa è l'attività di San Pietro che si vede molto lontano, quindi non si vede bene, ma quella è San Pietro.